Ancora un assalto ad un'azienda di preziosi del retino a finire nelle mire dei ladri una ditta di tegoleto che lavora argento. La banda è entrata in azione nel cuore della notte, si è introdotta all'interno della ditta tramite un buco praticato sul muro dell'azienda confinante. Una volta dentro ha fatto razzia di quanto trovato argento e bronzo utilizzato appunto per le lavorazioni. 170 kg di metallo prezioso che i ladri sono riusciti a portare via per un valore che si aggirerebbe attorno ai 100.000 euro. In azione è sicuramente una banda ben collaudata che è riuscita a disattivare l'allarme e la video sorveglianza per poi sradicare ed aprire anche le casse forti dotate di un sofisticato sistema di sicurezza ad accorgersi della caduta ai titolari all'apertura della ditta. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno subito fatto partire le indagini. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere della zona che potrebbero aver immortalato elementi per risalire alla banda. Un colpo che arriva pochi giorni da un altro furto, quello avvenuto tra l'11 e il 12 aprile ai danni dell'azienda Nicol Di Anghiari. Resta così, alto l'allarme. Con ansia si vive e si dorme anche un attimino con le orecchie alte perché si stanno intensificando, quindi il problema diventa un po' troppo grosso. Il comparto torna così a chiedere che Rezzo non venga considerata sotto il profilo della dotazione di forze dell'ordine come qualsiasi altra città. Non possiamo avere lo stesso numero di agenti di una città dove la produzione non è oro.